È un traguardo importante già essere qui e adesso dobbiamo godercelo, quindi ci siamo preparati nella maniera giusta e siamo pronti per domani sera. Sicuramente siamo due giocatori diversi, anche lui sta facendo molto bene negli ultimi anni, non lo conosco personalmente però ho grande stima del giocatore che è e domani, come ho parlato prima di Leao, sicuramente anche lui è un'arma importante per il Milan e dovremmo essere bravi a contenerlo al bene, ma sinceramente penso di aver fatto bene anche gli altri anni, magari quest'anno con la squadra che sta andando ancora meglio è più facile parlarne, però sicuramente è un anno importante per me, arrivo a giocarmi in questi partiti con la giusta consapevolezza e sono cresciuto come giocatore, come persona e sono nel momento migliore penso della mia carriera e anche per questo mi collego al discorso che ho fatto prima, dobbiamo godercelo queste partite perché possono ritornare più e giocarci di un quarto di finale, può non ricapitarmi e quindi voglio godermi queste partite, lo vuole la squadra e sono sicuro che faremo due grandi partite.